bene ragazzi come potete vedere su obs sul gioco vanno allo stesso tempo allo stesso modo e devo dire che è molto fluido quindi in questo caso obs il nuovo obs studio di questa nuova versione è strepitoso quindi godetevi questo video perché dopo la intro vi spiegherò come settare al meglio il nuovo obs studio ok ragazzi allora innanzitutto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like my like lasciatelo alla fine solo se il video vi è stato utilissimo e io sto cercando di aiutare molti di voi sto facendo il possibile però se non avete un buon sistema allora ok potete anche settarlo al meglio ps ma vi farà pochi fps è un pochino laggerà ok quindi mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi perché sto facendo il possibile quindi per quelli che vogliono imparare mi seguono perché devono essere aiutati non voglio che nessuno rimanga indietro quindi in questo caso andiamo su obs studio ok impostazioni andiamo sulle dirette e uscita ok dirette io vabbè ho messo il servizio twitch mi raccomando seguimi anche su twitch ok va bene in descrizione c'è il link sull'uscita invece abbiamo le dirette quindi in questo caso come funziona come funziona come funziona andiamo a fare uno speed test della connessione quindi speed test eccolo qua si lo so è molto molto lento adesso non sto usando la mia wifi si non sto usando la mia wifi sto usando il router del telefono tanto per vedere ok ok andiamo fare uno speed test 37 ping ok come potete vedere faccio 10 megabit al secondo in download si lo so è molto molto lento ora vediamo in upload ecco come potete vedere 7 8 quindi in questo caso in questo caso io sulle dirette dovrei mettere 700 ok se invece volete non so streamare in full hd dovete impostare 4000 sapete cosa sono 40 megabit al secondo quindi in questo caso impostate 4000 io ho visto che non ci arrivo non ci arrivo neanche quindi dovrò per forza mettere 700 si lo so con il router del telefono faccio queste statistiche queste qui upload e download ma se impostassi non so 1700 della connessione wifi che ho potrei non so streamare in 720 si lo so è deprimente ma devo per forza farlo quindi per quelli che non mi credono sul fatto dei 40 megabit al secondo è vero sì è vero ho provato a streamare in 3 4000 kilobit al secondo ma qualcosa è andato storto quindi laggava a morte non andava fluidissimo quindi ho dovuto abbassare del tutto la velocità in bit ok bene ora passiamo alle registrazioni alle registrazioni invece io ho impostato così velocità in bit video allora mettete 55000 kilobit al secondo e sull'intervallo dei fotogrammi chiave inserite 2 mi raccomando inserite 2 ho provato con 250 lagg quindi inserite 2 e poi salvate il vostro file video in un percorso file qualsiasi io ho creato la cartella video ops eccola qua sta pure registrando quindi una volta finito di registrare ha completato questa procedura e poi va nell'editing esatto allora poi andiamo sull'audio ragazzi sull'audio non vi preoccupate il nuovo ops vi aiuterà si vi aiuterà non serve questo pannello cioè serve quest'altro quindi noi possiamo andare su diretto ok dirette registrazioni li abbiamo fatte mi raccomando copiate queste impostazioni applica e poi andiamo su audio audio del resto metto metto altoparlanti no altoparlanti delle cuffie mic invece mic dove eccolo qua e applico poi abbiamo le scorciatoie sono molto importanti tipo se volete registrare in un gioco e non volete uscire dal gioco premendo il tasto start oppure alto più tab schiacciate un tasto e cominciate a registrare avvia la diretta io ho messo 9 pg up all'ultimo tasto della tastiera in fondo e poi sull'avvio della registrazione f12 mi trovo molto bene sulle avanzate invece non ci fate caso a noi ci interessa solo audio video uscita ok sul video invece quindi qua come potete vedere ha messo direttamente le impostazioni proprio dello schermo del mio sistema quindi io posso anche lasciare così fluidissimo full hd mi va benissimo ok mi va benissimo ok poi passiamo sui generali niente di che cioè ragazzi abbiamo fatto se volete faccio un'altra registrazione come ho fatto all'inizio perché ho registrato gta 5 attraverso il telefono per farvi vedere come va sia su obs e sia sul gioco quindi datemi un paio di minuti o gta 5 sull'hard disk si lo so ci vorrà un paio di minuti ma ci vediamo direttamente nel gioco ok vai ok ragazzi allora come potete vedere sto camminando sto camminando e sta andando fruto mi raccomando se vuoi seguirmi su twitch perché io e un amico facciamo sempre live su come cazzeggiare su come fare soldi e come fare rapine grandi colpi tante chiacchiere tante risate c'è c'è tutto nella sera perché verso mezzanotte fino alle 3 del mattino non abbiamo niente da fare si lo so dobbiamo dormire ma non abbiamo sun quindi giochiamo allora sta andando abbastanza bene adesso devo solamente prendere una macchina e spero che non lagghi a morte e forza mi sta vediamo quanti fps faccio ok vediamo quanti fps faccio 47 lo so ho aumentato la grafica ma è per la cronaca io ho la 1660 super e si ho impostato la grafica vabbè dai si vede spero spero che non laghi a morte ti prego no sto guardando sul secondo monitor e sta andando bene ok ok ragazzi allora grazie a tutti per questa visione iscriviti al canale lascia like al video se ti è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video iscriviti al canale